Il primo dicembre la Maddeno Cajerov Association invita l'annuale Christmas Dinner Dance per informazioni 416-999-77-25. Il primo dicembre la Cattolica Heraclea Social Club presenta a Christmas Without This con una serata di gala World Bridge per informazioni 965-265-09-19. Il 2 dicembre i missionari Ardodini e il portato Ugo Club cordialmente invitano vice-devotti alla Santa Messa in onore della Madonna della Terra e alla Sagra dei tradizionali dolci natalizi presso l'Ardodini Village World Bridge. Per informazioni 9-05-417-93-82. Il 2 dicembre il comitato di guardia regia ai padri che non andava invitano ai festeggiamenti in onore di San Nicola di Vali con Santa Messa alle 315. Per informazioni 416-654-3908. Il 2 dicembre il trentino Cloth of Toronto invita a breakfast per Santa per una domenica magica per i bambini e tante cose buone da bussare. Per informazioni 9-05-303-87-302. Il 3 dicembre siete invitati al mestile di San Pio presso la chiesa di San Bernardo di Lorenzo e Vieni. Notare all'ore 19-30-10-9-30 per informazioni 416-441-67-38. E facciamoci la chiesa di San Bernardo di Sant'Adgire. Qui sono seguiti alla condizione. E ora chi siete andati. E avuti nel corpo di San Ignario. Grazie di averci seguito. Noi viviamo pronto a letto domani sera sempre alla stessa onda. Vi auguriamo una felicissima serata con tutta la tuta di ora. Vi saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.